Ciao ragazzi carichi come non mai da FuseGamer Oggi ragazzi siamo qui con un nuovo vede insieme a Om Ciao ragazzi e ciao ragazze Bentornati sul canale di FuseGamer E oggi siamo qui Andrea per... Allora per giocare a questo giochino ragazzi Si chiama Capitan Tsubasa Mi raccomando prima in descrizione scaricatela tutti quanti perchè è gratis Mi raccomando ragazzi oggi andremo ad affrontare Omar In una partita appunto su Tsubasa Ma ce l'hai tu Tsubasa eh Om Vabbè ovviamente ce l'ho davanti a te e sono super allenato Eh si Tsubasa sarebbe Olli di Olli e Benji ragazzi Esatto Solo che il nome è giapponese Vabbè comunque Ragazzi allora andiamo subito a spiegare questa app Mi raccomando vi ricordo che è gratis Quindi potete scaricarla tranquillamente È italiana quindi ragazzi scaricate tutti quanti Ci fa ritornare bambini questa app Omar Mamma mia quanti ricordi Quanti chilometri di campo che mi sono visto Ok allora ovviamente ragazzi è scaricabile sia per iOS che per Android Mi raccomando Ragazzi ogni volta che accederete a quest'app vi daranno dei regali Ad esempio vi faccio vedere i regali che mi hanno dato oggi Mi hanno dato dei In prete di queste Dreamball Queste Dreamball in pratica servono ad aprire pacchetti E migliorare la vostra squadra Ma io accetto il regalo ovviamente Come si fa a rifiutare il regalo ragazzi Non si rifiuta Qui c'è una data delle challenge ball Che andremo a Vabbè andiamo ad accettare ovviamente tutti i regali Il tacquino di Roberto Il tacquino di Roberto Omar È importantissimo Poi spiegheremo cos'è Come si usa Eppure l'anno nuovo qua Che c'è bonus Accesso Sarebbe l'anno nuovo Sarebbe la maglietta Dedicata proprio a questo gioco Ecco Ok poi Potete Andare su notifiche Qua vi daranno tutte le notifiche Per Necessarie Per sapere Quello che succede Quello che fate All'interno del gioco Ad esempio qua c'è Estrazione nuovi giocatori Potenziati Partite assalto in arrivo Elengo degli oggetti consigli Consigliati invernali Eccetera Bonus accesso Anno nuovo Vabbè vi danno dei bonus All'interno del gioco Poi ci sono le missioni Settimanali Giornaliere E mensili Se non sbaglio Ah no Solo se giornaliere Settimanale E in pratica qua Ci sta una modalità storica Vi introdurremo dopo Comunque qua accettiamo Ovviamente La sfida Settimanale Che Consiste Nell'addestrare In attacco Tre giocatori Giusto O per tre No Giocatore essere in attacco Ok Comunque vedete Gli scenari cinque volte Ok a posto Ragazzi poi in basso a sinistra Come potete vedere C'è la scheda giocatori In questa scheda giocatori Potete Allenare ovviamente I vostri giocatori Adesso andiamo a allenare Qualche nostro giocatore Da farvi capire Come si fa Allora Allora A me è uscito pure Un giocatore SSR Da un pacchetto Che è aperto Con 50 Dreamball Ragazzi Che è il pacchetto Più grande Che possa esistere Allora Potenziamolo Con un qualcosa A questo giocatore Mettiamolo Mettiamoci questa cosa E aumenterà Automaticamente Di livello Il massimo Che può arrivare È 40 Anzi 80 E lo facciamo aumentare Fino a 40 In questo momento Ragazzi Ha aumentato fino al 40 Addirittura Questo giocatore SSR Quindi avete capito adesso Come si allena Un giocatore Poi Allora Adesso andiamo Nella sezione squadra E andiamo a vedere Come è composta La mia squadra E come Migliorare pure Con i moduli Eccetera Allora Io uso un 4-3-2-1 È di tipo difensivo Però ragazzi Voi ovviamente Potete cambiare Il vostro modulo Io in attacco Ho Tsubasa Qua abbiamo tutte le riserve Che possiamo mettere Tranquillamente All'interno del campo Anche se comunque Non sono di livello O alta Ad esempio Se qua metto Questo qua di livello 1 Al posto di livello 1 Si scambia così La formazione Ecco qua Potete cambiare Il modulo In 4-3-1-4-2-1-3 Eccetera Poi l'uniforme Che sarebbero Le maglie Cioè La vostra uniforme All'interno del campo C'è Hai messo quella del Napoli Andrea Eh sì Ho messo una del Napoli E una dell'argentino Allora Andiamo a modificare Magari Mettiamo più azzurrina La mettiamo Dai Mettiamo più azzurrina Omar Ok mettiamo più azzurrina Napoli Ok bianco va bene qua Qua mettiamo però Celeste Ok più Napoli Adesso Om Patologine calzava bene Ok però adesso voglio modifichere Però quella del portiere La voglio fare verde Come Come Reina La voglio fare Anche Pelato Lo devi fare Ecco L'hai Pelato Se puoi vedere Top Qua ragazzi Ci sono tutte le tecniche speciali Dei posti giocatori Allora Nell'attaccante A me c'è Olli Che fa questo tiro Chidate che sarebbe Tipo il tiro speciale Di Olli Come centrocampisti 2 3 No 4 Addirittura 5 di loro C'hanno il tiro speciale Anche difensori E poi c'è anche La riserva Tutte le riserve qua Adesso andiamo Nella sezione Estrazioni Ragazzi Questa E' una E' una modalità Molto interessante Allora Qua si aprono i pacchetti Come vedete Adesso andiamo ad aprire uno Omar che dici Dai dai Andiamo ad aprire uno Vai Spacchettiamo il live 5 Trimble Per un giocatore Credo sia un giocatore Allora andiamo a vedere E' Hulk out Omar E' Lucella E' Lucella Tiro Oddio Fuoco Si Ci metterà tutto me stesso Si ragazzi Tirate Che fa bene Olè Allora vediamo Il pallone sta girando Omar sta andando in porta Ed è gol Oddio Allora vediamo chi può uscire E' uscito un R Vabbè che è schifo E' una gentina E' russo lui Vabbè ragazzi Comunque questi sono i pacchetti Comunque il pacchetto migliore E' quello là Da 50 Trimble Che ti dà pure il giocatore Forse pure SSR Che è il giocatore più raro Che potete trovare Mentre dal negozio Ragazzi potete acquistare Le Trimble E altri vari oggetti Per poter spacchettare E trovare giocatori fantastici Adesso andiamo a vedere Un attimo modalità storia E vi spiego un po' Cosa potete fare All'interno della storia Potete migliorare ovviamente Di livello Quindi potete livellare Allora andiamo a vedere Prima eventi Anche se ve lo sconsiglio All'inizio di farlo Perché ci sono Ci sono già Squadre troppo forti All'inizio Cercate di migliorare Prima la squadra E poi andate sui eventi E fate appunto Le partite contro Queste squadre Poi mentre la storia Io sto a buon punto Sto a scuole medie Parte 2 di 3 Completamento Partita dell'allenamento Vabbè qua ci sono tutte Le cose che potete fare All'interno della storia Adesso ragazzi però Andiamo a fare la partita Contro Om Perché Om ci sta aspettando Eh si Andiamo dentro Quindi con partite online Che si sblocca Dal livello 7 Ragazzi vi ricordo eh Andiamo a fare Namichevole contro Omar Facciamo la recluta noi Se noi facciamo la recluta Io do il codice ad Om Ed Om Entra nella partita E giochiamo contro Signore Ok ti dico il codice vai 8 6 8 8 9 3 Chiuso contro Ravenna Fc carichi Bella Sta caricando ragazzi Adesso andremo ad affrontare Om E' la prima volta che affronto Om su questo giochino Quindi sono veramente curioso Di vedere come è affatto Amara Ah però non abbiamo detto La penitenza Ragazzi La cosa più importante La penitenza Chi perde adesso Andrà a scartare 3 giocatori Degli if mensili Del full champions Li metteremo Tutti all'interno di Tutti all'interno di una squadra E Om mi chiamerà 3 posizioni E io dovrò andare a scartare Quei 3 if Giusto Om O viceversa Esatto O viceversa Giusto Fc carichi del calcio d'inizio Gino Io tengo a Gino Tengo Om Tieni Gino No come fai Voglio anche io Sono un grande Oh contrasto Oddio Allora faccio Non te lo dico Ah non puoi dirlo Non posso dirtelo Dribbling Nooo Forza ragazzi Ma ci crediamo Sacon Uno contro due Attenzione Ma io tengo bei giocatori Stai attento In attesa degli avversari Dai Om Dai Sacon Tante foto Ti blocco tanto Ho detto che ti blocco Dai che ti prendo E non la prende A seconda Questo si è forte Nooo Godo Guarda come la passata Tsubasa Vai Oliver Hatton È troppo forte Oliver Hatton ragazzi Si chiama Tsubasa no Oliver Hatton Accetta Fa lo stesso Vai Tsubasa Ma Tsubasa Pressing Ale Contro due Ragazzi Ragazzi Oh contro due di loro stai eh Posso Provo con il passaggio filtrante ragazzi Dai Si Ma a me non c'ho fan Cioè Guarda qua Intercetta Olè Ma 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 Sei solo della porta Tira al volo Ma chi sei Aronaldo ragazzi Esce toti questo eh Oddio il portiere Eh ma faccia la tecnica speciale Non me ne frega niente Dai parala 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 Nooo Godo Vai che la rilancio Kino Gino vai Gino Vai Gino Quattro la palla Ma ma è da solo 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 La può passare Tsubasa Ma che faccio il pa No non lo faccio Il passaggio Dai Hai fatto il passaggio Non è vero Si Ma è vero Attenzione Tsubasa Attenzione Tsubasa ragazzi Ho fatto Una tecnica speciale Che non dirò ad Omar No il tiro dal di lì Eh si Che me ne frega Tanto è tiro guidato Posso dire pure dalla difesa Posso dire Quando ho liberato Come dice Omar Ecco Dai Ti prego portiere Guarda la mia tecnica speciale Non puoi mai Contrastare il tiro guidato di No che cavolo è Guarda qua Non so Non so Non so Non so Non so Non so No 1-0 No Al 28 Ma mi fai Cicare che Uri ando subito Alla ridire Nella partita Signori Andiamo con sé Con la numero 9 Tsubasa Tsubasa Attenzione adesso però Perché Comunque Non vogliamo perdere Forza ragazzi Vogliamo perdere Detto Pierre 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 America Boner Young No Si se ne va Su basa Scriva Ma tu vuoi pure tirare da qua Cioè Fidati Fidati Tira Cioè non lo dovrei dire Però tira Fai il tiro guidato Crossi in mezzo ragazzi Attenzione Blocco Godo È passato Vai Vai Intercettano Ole Manca Ole Mamma mia Ma che è Non ce ne fanno a me Ole Ci proviamo ragazzi Prego Gino Io non tirerò in porta La passerò all'indietro invece Guarda lì Il primo la manca La seconda la manca E adesso Prepariamoci Per la bomba Oh se non entra sto tiro Veramente Ho fatto un'azione Della madonna Ragazzi No Il tiro È speciale Ma dai Godo Para È un grande mio portiere Finisce il primo tempo Il dribbiamo così ragazzi Tira Ragazzi Ci proviamo Qui solo lui Me la può risolvere Ragazzi Quindi Tiro guidato Da 35 metri Vai Falco Vai Falco Vai La manca Vediamo il secondo La manca Eh vabbè Ma guarda dove è arrivata con la palla Critico no Oddio Mai fast goal No è impassibile Dai Che cazzo è 40 metri È CR7 Eh guarda a me Guarda io ho fatto parata Vediamo se la para Goal E andiamo Ravenna pareggia Vediamo se questo Non la prende Posso fare il tiro al volo Mi sa sono da solo Oh sei da solo davanti alla porta Si sbagli Cacciala sta bomba là Dai Tira al volo Tira al volo Goal Sicuro goal Ti prego Dai manca posso fare la parata speciale Vabbè segnato con Gino Sè Grande Gino Le braccia 41esimo Vai che la andiamo a chiudere L'abbiamo ribaltata ragazzi È finita È finita ragazzi Mettiamo in difensiva va Non si sa mai Tutti indietro ragazzi Vai per il suo basa Per il suo basa Arbitro fischia È finisce La partita Ravenna vince Una partita ben giocata Ma Ravenna se la porta a casa E vabbè Andrea Sei pronto? Intanto ricordiamo sempre che il link è in descrizione Primo scaricatela Che magari ci becchiamo anche contro per giocare Infatti signori Ma adesso ragazzi Mi dovrà dire tre posizioni Che adesso Dovremmo fare una sorta di search and discalate Però ragazzi vi ricordo Primo link in descrizione scaricate su Baza Totalmente gratis sia per io che per Android Mi raccomando passate pure da Home Che sul suo canale facciamo chi perde Scarta 10 pacchetti Quindi ragazzi su FIFA 18 Quindi ragazzi mi raccomando Scaricatela tutta E adesso andiamo dentro Con la search and discard Quindi ragazzi adesso Ho questi 11 if Home mi dovrà dire tre posizioni E io andrò a scartare i giocatori che mi dice Home Di quella posizione In quanto che moduli hai preso Andrea Ah 4-3-3 offensivo Speriamo non mi chiami questo Ok Allora 4-3-3 Sì Che mi dici intanto Chi sono i tuoi bomber Della FUT Champions Allora c'ho Raffaello 86 De Vrij 85 Coutinho 87 Nace 84 Pizzo 84 Wilson E vabbè altri Tipo Sorrentino Speriamo che non me lo chiami Allora punteremo a scartare Coutinho Ecco Allora Coutinho alla sinistra Allora io chiamo subito L'ala sinistra Perché molti pensano Che me lo mettono L'ala sinistra Così non chiamano L'ala sinistra E quindi mi cavo il dubbio E ti chiamo l'ala sinistra E indovina chi hai scartato Sorrentino Tutti gli amanti Del calcio italiano Ti odieranno Omar Scartiamo No E vabbè Fa niente Allora quindi questo l'abbiamo chiamato E adesso ti chiamo Il centrocampista Centrale COC Con il mezzo proprio CC centrale Ah beh COC Perché 4-3 offensivo Ah sì sì COC Scusa Sicuro? Sì Castro 81 Godo Ti chiamo Il Dif Il 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 terzino di sinistra Sei sicuro Om Dai sì No Sì dai Il terzino di sinistra Che magari è proprio quello Che mi mangio le mani E andiamo così Rega Marcello Con la tarocca E lo scartiamo Con felicità Quindi Coutinia Ragazzi Va a caso Coutinia Devrai No ci vanno tutti a casa Bene così Quindi ragazzi Andate sul canale di home Che ci sarà una sfida Su Subasa Anche sul suo canale Dove Dove La penitenza sarà Scartare 10 pacchetti Mi raccomando ragazzi Quindi Scaricate il Subasa Prima link in descrizione Quindi lasciate un bel mi piace Un bel commento Iscrivete al canale Guardate Guardate queste fantastiche maglie Potete acquistarle Link Sempre link in descrizione Mi raccomando Tutti i ragazzi Di Fuse Gamer Quindi lasciate un bel mi piace Un bel commento Iscrivetevi al canale Saludiamo Marcello Chiamano Un prossimo video Bella Ragazzi Naccia Se prendevo Tutti Indio Chiamano 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 Grazie a tutti.